Palla a volo nel prossimo fine settimana, torna il trofeo Mimmo Fusco, ce ne parla Marco Fantasia. Per il diciannovesimo anno la palla a volo italiana ricorda Mimmo Fusco, uno degli storici telecronisti del Volley Rai. Il momento clou del torneo si viverà sabato con l'assaggio di Serie A tra Cuneo e Roma, ma già la sera prima ci sarà un antipasto con il derby delle città della cultura Bergamo-Brescia. Mimmo Fusco è un torneo prestigiosissimo che io seguo da tantissimi anni e qui portarlo a Montichiari e con diretta Rai. E all'interno del Palagiorge ci è sembrato un momento da non perdere. Il ricordo di Fusco appoggia le sue fondamenta su un pilastro sociale. Grazie all'intervento degli sponsor verranno assegnate borse di studio ad altrettante studentesse pallavoliste in difficoltà economiche. L'aspetto sociale è sottolineato anche dalla stretta collaborazione tra Volley Montichiari e Special Olympics. È da sei anni che siamo accreditati come team ufficiale di Special Olympics, facciamo attività, l'abbiamo fatta anche all'estero portando le nostre esperienze e per cui insomma ci siamo mossi sia a Montichiari sia nei paesi limitrofi, diciamo innestando questa cultura di poter dare la possibilità di giocare a pallavolo a ragazzi con disabili assieme a ragazzi normodotati. E questi sono gli appuntamenti con Rai Sport.